Il Molnupiravir, il farmaco contro anti-covid, anti-coronavirus, pensate che sarebbe in grado, sarebbe capace di eliminare il virus in questione, il covid, il coronavirus, che dir si voglia, entro tre giorni di tempo. Il farmaco, vi ricordo, è prodotto dalla Gevrio, sarebbe in grado di stirpare il virus entro tre giorni dall'inizio della terapia con il farmaco in questione. E' ciò che viene ad essere diffuso oggi, 2 aprile 2022, in uno studio pubblicato in un giornale chiamato New England Journal of Medicine, i cui risultati verranno pubblicati tra pochi giorni di tempo. Quelli che hanno ricevuto la pilola, placebo, hanno impiegato fino a 5 giorni per eliminare il virus, in alcuni casi però anche più giorni. Lo studio ha confermato la superiorità del farmaco in questione rispetto al placebo negli adulti non ospedalizzati, con il covid in un forma lieve o moderata, che erano a rischio di una progressione verso una malattia più grave, più forte, più incisiva, se la terapia non fosse iniziata entro 5 giorni dall'esordio dei relativi sintomi della patologia in questione. L'OMS ha annunciato il 3 marzo 2022 che il Bonupiravir fa parte dell'elenco di trattamenti raccomandati contro il covid, contro il coronavirus. Quindi diciamo che è un farmaco efficace e barra efficiente per andare a combattere, per andare a, diciamo così, uscire e spegnere proprio l'attività del virus in questione, il covid, il coronavirus. Vi ringrazio in primis per la visione e in secondis per l'ascolto di questo video di oggi, cari utenti di YouTube, iscrivetevi, mi raccomando, se vi va, commentati. Un saluto caro e una buona giornata a voi tutti dal narratore italiano.